Ora è il momento di vivere la seconda semifinale, è già nel ring l'albito signor Raffaele Claudio Veni di Roma e chiamiamo sul ring all'angolo rosso da Milano Pavel Simanski! Tutto di lui all'angolo blu da Firenze, Kebron Neguse Sizzai! Grazie per la visione! Il team Colonnese Promotion in collaborazione con Bower Folletto presenta un incontro di Muay Thai sulla distanza di tre round, valevole per la semifinale del torneo Elite categoria 65 kg. Arbitra il signor Raffaele Claudio Veni di Roma all'angolo rosso con un record formato da 11 conti disputati, 7 vittorie, 3 sconfitte ed un pari per lui. Per il team De Gim 2.0 da Milano, Pavel Simanski! Contro di lui all'angolo blu con un record formato da professionista promuovendo 14 conti, 11 vittorie, 2 sconfitte ed un pari. Per il team Arceddu da Firenze, Kebron Neguse Sizzai! Per il team Arcent aquilo da Firenze, Kebron Neguse Sizzai! Per il team CorBonis! Maduro Regio! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.